Benvenuti a questa edizione straordinaria del Gazzettino della Piana. Agliana, Montale e Seano saranno provincia del comune di Quarrata a partire da settembre 2019. I Rollystone saranno in concerto al settembre Quarratino in piazza Risorgimento e migliaia sono anche i fans del Cialtrone dello Svapo. E infatti gli stessi fans avrebbero dormito fuori dal negozio Vapers a Quarrata. Ma vediamo il servizio. Migliaia i fan che hanno dormito fuori tutta la notte nell'arrivo del proprio idolo. Ricorrendo un proprio sogno, una fantasia, questi ragazzi sono stati sotto la brina del gelo aspettando il proprio idolo, il Cialtrone dello Svapo. Il Cialtrone dello Svapo avrebbe poi annunciato il suo nuovo liquido, il K-Urina 32. Ma andiamo a vedere un altro servizio. Il K-Urina 32 gli assomiglia parecchio a un liquido che mi riportò uno dei ragazzi, diciamo, che gli andranno a fare un viaggio e io l'ho copiato. Una cosa importante è che è la Coil, per dire, no? Che stai qui è cosa che è una Coil 70.9. Recenti, per dire, li hanno disadatti. Io invece me le monto da me solo, fottuto da me, medesimo, capito? Ma poi la comodità di queste pinzette, e fa un lavoro perché te lo puoi usare in multiuso. Sia per gli orecchi, capito? A volte ci c'è il sudicio dentro, il sudicio maicero, e pennazzo. Questo è il mio kit da svapo, comprabile qui. Ah, 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 è lo svapo, acquarrà. Non è per vantazione, ma i miei liquidi sono migliori di tutti che gli altri in commercio, diciamo. Il prossimo prodotto, infatti, Ferruccia 34, sarà un liquido al sapore di lampredotto e sarsina verde, e entrerà in commercio apposta per l'autunno-inverno. Per una buona svapata, e ci vuole un grande liquido. Venite a provare il Vagina 24, dai sapore fruttatos. fruttatos. Ecco, questo era il cialtrone dello svapo. E chi ha scritto questi fogli, non ci si legge una sega, eh? Per piacere, scrivi che gli immagini la prossima volta. Allora, per questa edizione è tutto. D'altronde, anch'io, da quando fumo più, diciamo, le sigarette, un scatarro più la mattina. Alla prossima edizione, con il Gazzettino della Piana. Vapers, Quarrata, via Corrado da Montemagno, 22. e dovute. Grazie per la visione!